Ciao a tutti e bentornati al nostro canale Oggi apriamo questo che viene dalla scuola di Ale Quindi spieghiamoci se no la batteria Ok? Apriamola E c'è scritto che lui è il numero 3 Quindi noi apriamo Oh! Aladino! E' un libro! Aladino delle fiabe Ma prima tu avevi un altro libro Ale Che è tipo quello blu Aspettate Vabbè lo faccio vedere un'altra volta Però Aladino io lo so la storia Quindi non vi spoilerò niente Però è un bel libro Vi consiglio subito di leggerlo E un giorno leggeremo insieme Aladino E qua ci sono le collezioni Però io c'ho già alcune collezioni di libri Però non sono per esempio tipo così La copertina ce l'ho diversa Perché quando ero piccolo aderavo tanto i libri Leggerli Però adesso La principessa sul pisello Pisello! C'è scritto la principessa sul pisello Proprio qua al quindicesimo Allora non lo vorrei leggere Però se vuoi leggere Io vorrei il brutto natroccolo Quindi ciao! Ciao! Moltissimo! Grazie a tutti.